ben tornati sul canale bentornati buona domenica buona domenica a tutti buona domenica a tutti diciamo che non è una sosta fortunatissima per per l'inter senza voler esagerare senza usare toni apocalittici come qualcuno già sta sta facendo leggendo un po i giornali stamattina se ne sono lette veramente di di ogni e certamente possiamo dire che non è una sosta fortunata per per l'inter e c'è un rischio chiaramente c'è il rischio in qualche modo di interrompere quello che era un flusso estremamente positivo che durava praticamente da da inizio anno in realtà pure nella prima parte di stagione l'inter aveva aveva accumulato risultati positivi su risultati positivi in generale quasi tutto era andato per per il verso per il verso giusto poi diciamo da bologna inter in poi nonostante la vittoria sono cominciati ad accadere alcuni episodi negativi ad esempio gli infortuni carlos augusto e arnautovic due infortuni in una partita mai capitato prima in questa stagione che hanno orientato quasi in maniera obbligata alcune rotazioni di inzaghi nella partita con l'atelico madrid perse rigori quindi primo stop veramente negativo no dell'annata nerazzurra dopo quello in coppa italia chiaramente in tono minore anche se come vi ho sempre raccontato era stata vissuta malissimo malissimo da dall'inter soprattutto dall'allenatore dei giocatori che puntavano forti anche della coppa italia a maggior ragione puntavano andare un dio a vincere ma andare avanti c'è più di che c'era una grande fiducia e quindi la grande delusione è stata parametrata chiaramente proprio alla grande fiducia che che si aveva un 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 eliminazione che in qualche modo è stata condizionata anche da quei due infortuni che hanno limitato non solo le rotazioni ma anche una gestione del diciamo delle delle forze non ottimali non come era stata programmata e poi arriva dalla partita col napoli due punti persi in maniera proprio beffarda considerando la mole di occasione creata dall'inter il gioco espresso e qualche caso arbitrale poi passato sotto traccia per quello che è venuto dopo perché perché poi c'è stato appunto il il diverbio tra acerbi e john jesus quindi il caso acerbi che se l'inter se lo è trascinato e se lo sta trascinando ancora e poi due infortuni con le nazionali quello di defray e ieri sera quello di zommer entrambi con ogni probabilità non ci saranno con l'empoli bisogna capire cosa succederà cosa ne sarà di acerbi e con arnauto e c'è ancora fuori e con quadrato ancora fuori e torneranno carlos augusto e sensi che per quanto vale ancora fa parte dell'organico di inzaghi penso il rischio da scansare è quello di un ulteriore passo falso dopo i due punti persi col napoli e quindi riaccendere un po quelle che sono le velleità scudetto di chi insegue in particolare del milano visto che la juventus sembra ormai aver alzato bandiera bianca i punti del milano sono 14 non sono pochi chiaramente però mancano ancora nuove partite e come ci ha insegnato walter samuel nella finale di champions league quando qualche suo compagno di squadra in particolare zanetti che lo appunto racconta l'episodio già cominciava con i lucciconi agli occhi samuel diceva basta non ancora il momento non è ancora finito secondo me questa frase non è ancora finita deve riecheggiare nelle orecchie del nella testa degli interisti perché c'è ancora un lavoro da da finire va finito soprattutto non col fiatone non sperperando ma continuando a battere come è stato fatto per tutto il campionato poi assuando i vittori qui il discorso non è tanto è ma giochi con l'empoli ma giochi con l'udinese poi hai paura se gioca due partite con audero se giochi due partite con la difesa un po raffazzonata o non è questo il discorso perché chiaramente in un momento di massima massimo splendore non sono due tre quattro assenze che ti fanno dubitare della tua della tua forza è l'obiettivo è quello di scansare proprio eventuali bug a livello psicologico non in campo e l'inter quindi si trova a dovere ancora una volta a superare un ostacolo questa volta non di campo ma ancora una volta contingente cioè dall'esterno a tutto ciò a questo quadro non più così di liaco come è stato fino a bologna inter ci si aggiunge vedete poi come cambiano il il calcio tra da da bologna inter a oggi sono passate due partite però una la versa rigori è una per hai perso due punti un po così sono scoppiati casi sono stati infortuni con due partite praticamente l'inter si trova a stare già in paradiso invece a dover fare i conti con una realtà ancora tutta da da concretizzare non è compromesso nulla chiaramente non si sta facendo allarmismo si sta semplicemente fotografando la situazione e analizzando un momento che è pure un momento non così simpatico mi direbbe un ex presidente dell'inter acuito proprio da dalla situazione dell'attuale presidente dell'inter e che alle prese con baghe personali che non hanno nulla a che fare con l'inter direttamente ma è chiaro che indirettamente parliamo del presidente dell'inter e non è che può far piacere sentir parlare di un presidente dell'inter insolvente o nulla tenente o con i creditori alle calcagne eccetera 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 al di là del poi dei giudizi che io francamente evito perché già se ne sentono tanti non c'è bisogno di aggiungere altro per quanto riguarda il campo sommer distorsione alla caviglia su un calcio d'angolo ha messo mano il piede gli si è girata la caviglia ha provato a restare in campo poi dopo un contrasto con oilund ha alzato bandiera bianca ieri la tv svizzera parlava di caviglia piuttosto gonfia e dolore intenso esami forse già oggi io escluderei una sua presenza con l'Empoli quanto meno per non rischiare chiaramente bisogna aspettare gli esami De Frey pure dovrebbe saltare almeno l'Empoli esami fatti in Olanda non esattamente congeniali visto che in caso di problema muscolare di norma si aspettano 24 48 ore per avere il quadro clinico il più possibile chiaro l'Inter non sembra avere così tanta fretta di capire anche perché dopo l'allenamento di ieri si tornerà in campo mercoledì e quindi l'Inter e lo staff medico del club si sono presi ore e ore di tempo per valutare con serenità la situazione di De Frey quindi nessuno qui è particolarmente ansioso nessuno si sta facendo prendere dalla paura dal timore che ne scrivano e dicano all'esterno anzi e questa è una chiave di lettura che vi do io sono proprio queste e già ci sono passati qualche volta in stagione non tantissime volte ma già ci sono passati io avevo sperato in questa soluzione e in questa attitudine e i fatti hanno hanno diciamo in qualche modo risposto in maniera affermativa a quelle che erano le mie speranze e i risultati sono sotto gli occhi di tutti ovvero da problemi che non si deve sfociare nel pianto nel vittimismo ma si devono cercare soluzioni e magari andare a scavare e a trovare un qualcosa di insperato era successo con Bissec dopo il grave infortunio di Pavarra no vi ricorderete tutti quanti sperati e dai problemi le grandi squadre i grandi gruppi di lavoro trovano soluzioni e da lì è venuto fuori Bissec che addirittura per alcuni doveva prendere il posto di Pavarra poi dopo il rientro del francese poi Pavarra chiaramente è ancora di un altro livello ma Bissec si è scoperto un'alternativa di buonissimo livello tant'è vero che oggi quello che dico io è ok a Cerbi non si sa De Frey mancherà una o due partite vedremo magari non mancherà per niente no si spera però dovesse mancare tu hai comunque un pacchetto arretrato che ti consente di ti consente di giostrarti qualche partita senza assili nonostante la mancanza di due centrali di ruolo due centrali intesi come proprio perno centrale della difesa della difesa 3 e allora chissà potrebbe nascere una nuova soluzione adatta anche al futuro con Pavar centrale Bissec braccetto di destra stessa cosa per per il portiere Audero non vale non vale Sommer ma non è detto che non possa rivelarsi comunque un portiere affidabile alle spalle voglio dire che deve dimostrare alle spalle anni di Serie A a me non ha mai fatto impazzire come portiere ma non è nemmeno uno scarsettone non è non è un secondo portiere inaffidabile anzi è un secondo portiere per certi versi di lusso per la per la Serie A e quindi l'Inter deve avere quest'ulteriore forza la forza di affrontare tutte queste difficoltà che sono nate nel giro di pochi giorni dalla scrivania al campo passatemi il termine di paragone per uscirne ancora più forte e dare una risposta ai soliti che provano in qualche modo a complicare diciamo così la storia oggi scendere in campo l'Italia per la seconda e ultima amichevole di questa sosta mai così sgradita ripeto nulla contro le nazionali come nulla si ha contro i coltelli però se li dai in mano a Jack lo squartatore è un po' questo il discorso il problema dei nazionali non sono dei nazionali sono i calendari incastonare amichevoli nella fase più calda della stagione come appunto quella di marzo dove si decidono campionati e coppe è qualcosa di assurdo assurdo per chiunque mastichi un po' il mondo del calcio quindi aspettiamo la fine di questi amichevoli sperando incrociando le dita che non accada null'altro per quella che qualcuno ha chiamato la nuvola di Fantozzi sull'Inter se l'Inter è Fantozzi non sono le altre un saluto